Buongiorno, ben ritrovati, ben alzati e buona colazione se state facendo appunto colazione davanti a un buon caffè. Noi siamo qui per mostrarvi come tutte le mattine alle 7.30 in diretta, le prime pagine, i titoli principali e gli articoli sui quotidiani in edizione locale, Corriere Adriatico e poi il resto del Carlino, come sempre lo facciamo insieme e salutiamo anche tutti coloro che ci guardano in streaming attraverso le nostre pagine social, Facebook e quindi anche loro un saluto e un buon mattino e poi anche quelli che ci seguono nelle repliche di tutta la mattinata fino alle 13.30. Bene, guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo prima di entrare nelle pagine dei giornali. Allora oggi guardiamo subito il santo di oggi, venerdì 22 dicembre, la chiesa osserva Santa Francesca Severini Cabrini, il sole è sorto alle 7.39 e tramonterà alle 16.35. Bene, giornate molto molto corte ma dal resto è così in questo periodo dell'anno, però vediamo come si presenta questo fine settimana, tutto dedicato al Natale perché domenica sarà la vigilia di Natale e vediamo a partire da oggi, venerdì 22, il cielo come sarà sereno, poco nuvoloso, transito di alte nuvi però soltanto nella fascia serale, precipitazioni non ce ne saranno, temperature però in diminuzioni nei valori minimi e in aumento nei massimi, quindi aumenta il differenziale durante la giornata, il mare sarà mosso con moto ondoso in diminuzione, quindi in scaduta e i fenomeni particolari come da copione in questo periodo dell'anno e in queste settimane le gelate diffuse nella mattinata, vedete anche la simbologia. Domani 23 dicembre, antivigilia, c'è sicuramente poco da dire, vedete Didascalie molto scarne, cartina della regione Marche, sgombra da tutto, soltanto sole pieno, quindi cielo sereno, precipitazioni assenti, temperature in aumento, fenomeni particolari nessuno. Vorremmo vedere Didascalie sempre di questo tipo, ma sempre così non è, per domenica però vedete cambia poco, anche la vigilia di Natale sarà una vigilia all'insegna del sereno, poco nuvoloso, con maggiori addensamenti però nelle zone montane, però precipitazioni assenti, temperature in aumento, fenomeni particolari nessuno, quindi neanche le gelate domani e dopodomani saranno presenti. La tendenza sarà al tempo stabile, quindi insomma anche fino all'inizio della settimana, quindi anche il giorno di Natale, il giorno di Natale sulla carta dovrebbe essere appunto una giornata all'insegna del sereno, almeno dal punto di vista meteorologico. Guardiamo le pagine dei quotidiani, notizia comune tra tutte, quella appunto del Maxi Blitz e dei Carabinieri, di cui vedemmo un lancio in apertura della rassegna stampa proprio di ieri mattina, perché insomma è stata un'operazione complessa, ampia, che ha visto l'impiego di tante forze, però l'apertura o la fotonotizia del Corriere Adriatico è appunto abbuffate e alcol, tabagismo fuori controllo, sono le piaghe dei giovani, definite killer dal giornale, però in alto appunto c'è l'articolo, il lancio che riguarda l'articolo appunto del Maxi Blitz dei Carabinieri, 8 arresti, locali sotto sequestro, indagati anche i titolari, tra i clienti, mamme, studenti, gente di ogni estrazione e ceto sociale. Poi si parla di calcio, Fano a Bassano per proseguire la fuga dal fondo, dal fondo della classifica naturalmente, poi commercianti bocciano la ZTL del sabato sul corso, siamo a Pesaro, prima sperimentazione, però dovete darci più parcheggi e navette, queste le richieste a fronte insomma della ZTL. Guardiamo appunto l'articolo, vi faccio vedere subito quello del, lo apro in doppia pagina, del Corriere Adriatico appunto del Maxi Blitz con 80 uomini, tutta l'area di Fossombrone setacciata, 8 arresti, veramente un'operazione importante dei Carabinieri, indagine iniziata a Fossombrone ma poi proseguita con l'ausilio della compagnia di Fano, vedete qui in rassegna sulla conferenza stampa la foto con i vertici, anche il comandante provinciale e il procuratore capo di Urbino presenti a questa conferenza stampa, ecco il colonnello Ricciardi, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pesaro. Coca a Gogone, i circoli, perché i circoli per anziani erano il punto focale di questo spaccio, due circoli per anziani che venivano da un anno frequentati da questi giovani pusher che utilizzavano questi luoghi come scambio. Però sono stati tutti arrestati, 24 perquisizioni, perquisizioni, tra l'altro nelle perquisizioni, questa è una nota che ci tenevo a sottolineare e che anche il comandante della compagnia di Fano, Alfonso Falcucci, ha tenuto a sottolineare in conferenza stampa, grazie anche all'ausilio della polizia locale, dei vigili urbani, donna, è stato possibile eseguire otto perquisizioni proprio a donne, altrimenti non sarebbe stato possibile e quindi il ringraziamento del comandante Falcucci è andato proprio ai vigili urbani di Fano, Mondolfo e Fossombrone, in versione femminile, proprio per l'ausilio e il supporto in questa importante operazione, importante blitz. Ma vediamo anche l'articolo di apertura della fotonotizia, vedete dati veramente allarmanti, 3,9 la percentuale di donne che dichiara di aver bevuto più di 4 volte al giorno, 4 volte al giorno e il 12% di giovani che nel 2016 hanno dichiarato di abbuffarsi di alcol. Bungie drinking, quindi è l'alcol in nemico dei giovani e l'8% di giovani donne nel 2016 hanno detto appunto di abbuffarsi di alcol una volta al mese. Screening sulla salute dell'area vasta 1 tra i 18 e i 24 anni, anche le sigarette, anche il tabagismo è una piaga. Andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico, Ciclone Sgarbi, vetrina turistica, venite nella città ideale e reale. Questa è la presentazione della nuova brochure e diventa subito uno spettacolo Urbino è luce. Ancora dalle pagine di Urbino c'è cronaca, naturalmente cronaca nera perché borsa schermata al Conad denunciata una taccheggiatrice fermata da un poliziotto, aveva rubato profumi e detersivi per portarli via, aveva usato questa borsa schermata per evitare i segnalatori antitaccheggio. Nelle pagine di Fano del Corriere Adriatico si parla di sicurezza alla plofigras, un argomento ancora presente sulle pagine del giornale. Ora l'imperativo è cautela e prudenza. Politica e sindacato non si sbilanciano, seri, dice il sindaco di Fano, sarà la magistratura a definire le responsabilità. Il Comune intanto invita gli automobilisti a prestare attenzione al transito sopra i cavalcavia che a causa del freddo intenso, delle gelate notturne e anche di qualche piccola pioggia potrebbero ghiacciarsi e quindi causare quella ecatombe di incidenti che si è verificata alcuni giorni fa. Vedete appunto c'è una foto che riguarda però la profigas in questa pagina. Ancora dal Corriere Adriatico la politica, c'è stata un'assise molto combattuta e dibattuta sulla votazione della variante per la piscina. Sfida in consiglio tra maggioranza e opposizione, 250 ammendamenti per bloccare la delibera. Vedete uno dei protagonisti di questa seduta così calda, Luca Serfilippi, ex assessore che è stato protagonista di un duro intervento nei confronti dell'amministrazione per questa variante sulla piscina e quindi però che alla fine è stata approvata comunque. Nasce il team di adolescenti amputati, questo è il progetto potenti ed entusiasmanti fragilità, il progetto del Comune e della Nazionale Cantanti presentato ieri a Roma e Fano poi ospiterà ragazzini palestinesi e israeliani che impareranno a giocare a calcio uniti tutti quanti in nome dello sport e della fratellanza. Nella Val Cesano intanto gioco d'azzardo a San Costanzo, bruciati 2 milioni in un solo anno, indagine dell'agenzia Dogane, il consigliere Furlani dice facciamo un lavoro comune, è un'emergenza, slot nel territorio, sono 23 nel 2016, registrato un incremento del 1,5%. Senigallia, Senigallia anche lei con i problemi del ghiaccio e del freddo, si parla di concessionari e fantasma per una truffa, condannati gli specialisti appunto di questa tipologia di truffa, la Cassazione ha confermato le pene per Luigi Petinelli e i fratelli Vinnaco e Maurizio Frezza. Il Museo dei Nobili e Tre Castelli, poi una notizia utile per questi giorni, sarà aperto al pubblico in occasione delle festività natalizie. Bene, cambiamo testata, andiamo al resto del Carlino, come vi dicevo c'è la notizia comunque comune dell'operazione del Blitz, ecco vedete qui in piedi di pagina un momento della conferenza stampa, a Fossombrone 3,7 e Coca, spaccio di droga ai circoli, arresti e locali chiusi. Però si parla di sanità nelle pagine del resto del Carlino, sanità in termini di prevenzione se ne fa poca soprattutto per il diabete. La prevenzione è un'arma importante e poi una bella pagina, i profughi entrano nel presepe vivente a Borgo Santa Maria, chiuse le ostilità e quindi sotterrata l'ascia di guerra dopo mesi di polemiche si è tornata la normalità e quindi insomma questi figuranti sono di colore, sono proprio parte della comunità di migranti, saranno parte integrante nel presepe vivente. E allora vediamo, ve le faccio vedere unite anche queste due, le pagine che si occupano di sanità nel resto del Carlino, prevenzione è troppo spesso rifiutata, esami e movimento, allarme i più abbienti sono coloro che hanno una percezione distorta dei rischi in corso e quindi c'è più prevenzione nelle fasce medio-basse della società. E poi sicuramente una patologia che ha nella prevenzione un subo baluardo che ha fatto sì che si abbassassero i numeri della mortalità è proprio quella tumorale, però anche in questo caso le adesioni sulla prevenzione per quanto riguarda i tumori sono sotto al 50%. Gli screening precoci funzionano molto bene, in tanti però non rispondono alle chiamate e quindi è sbagliato anche il fai-da-te, bisogna seguire i protocolli e quanto dice è prescritto dalle normative sulla sanità a livello europeo. Ed eccolo qua l'articolo con la foto riguardante la conferenza stampa, vedete qui i vertici di Calabinieri e Procura di Urbino, tutti al circolo per la briscola e la droga. Arrestati 4 ventenni e chiusi due locali, più di 100 clienti identificati, compravano cocaina, marijuana, eroina, insomma c'era di tutto, era un bazar della droga, erano dei bazar della droga questi due circoli. Gli occhi puntati dei militari, naturalmente occhi elettronici e intercettazioni ambientali hanno fatto da asse portante in questa indagine, hanno attivato per mesi micro telecamere in modo da riprendere tutto e qui ci sono anche delle immagini, delle riprese, degli appostamenti degli uomini dell'arma. A Fano, per il resto del carlino il Natale è un Natale spento, dibattito aperto, il Natale in tono minore. Il museo ora è il museo ad essere preso in considerazione, è il museo archeologico, è ancora chiuso. I 5 Stelle naturalmente vogliono capire il perché questi ritardi, loro dicono, dipendono dal comune, dal comune appunto per quanto riguarda la responsabilità di questa chiusura così prolungata una volta che i lavori sono stati ultimati. E poi la proposta di Enrico Fumante del PD per quanto riguarda la gestione del verde pubblico, dice lui diamolo ad Aset perché sono più dinamici, attrezzati e strutturati per questa tipologia di intervento. Ultima pagina che vi faccio vedere del resto del carlino è una pagina poco piacevole perché parla di un articolo, c'è un articolo che parla di un avvenimento sportivo che è stato funestato da un incidente. Il Palatenda si apre il pavimento durante la gara. L'arma Juventus di calcio a 5 ha rischiato di perdere a tavolino. Il presidente dice abbiamo fatto una figura pessima contro un club di terreno di gioco, sarebbe da rifare. Il comune annuncia piscina invece a noi ancora non ha pensato. Qui vedete appunto la denuncia di Alessandro Giuliani, dirigente dell'arma Juventus-Fano, calcio a 5 che milita in serie B. Insomma quindi una militanza di tutto rispetto e di grande importanza perché insomma comunque porta Fano in giro per l'Italia. Bene, questo era tutto per la rassegna stampa di questa mattina e grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhio ai giornali torna domani mattina puntualmente alle 7.30. Buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.